ciao a tutti oggi prepareremo insieme un plum cake al cacao con la panna senza aggiunta né di burro né di olio allora prima di tutto sgusciate le uova aggiungete un pizzico di sale zucchero cominciate a lavorare unite tutta la panna ingredienti devono essere a temperatura ambiente mi raccomando poi sedacciate farina lievito e cacao uniteli man mano continuando a lavorare trasferite nello stampo io sto utilizzando uno stampo più piccolo per fare anche dei muffin e quindi infornate a 180 gradi forno caldo statico per 30 35 minuti e questi 20 25 minuti iscriviti al canale